buongiorno a tutti ho l'onore di aprire la tavola rotonda agile insurance il futuro dell'iper personalizzazione ringrazio per l'invito le fonti io sono Matteo Mangiacavalli account manager di LifeRay Italy e oggi avrò modo di farvi vedere alcune esporre alcune caratteristiche di LifeRay delle soluzioni di LifeRay per il mondo assicurativo innanzitutto chi è LifeRay LifeRay è una software vendor fondata nel 2004 a Los Angeles in California è presente in 19 paesi con 24 uffici tra cui l'Italia dal 2017 contiamo nel mondo oltre 240 partner 1500 clienti enterprise e abbiamo in Italia 15 partner certificati che possono lavorare essere vostri partner per la all'interno di progetti del mondo insolence siamo orgogliosi innanzitutto che LifeRay sia stata nominata per l'undicesimo anno consecutivo da Gardner all'interno del Magic Warden come leader è un risultato importantissimo perché la costanza della nostra presenza all'interno del quadrante che una volta era chiamato horizontal portal e con l'evoluzione della tecnologia e delle necessità del digitale è diventato digital experience platform ma la nostra presenza è stata confermata e possiamo ancora dirci tra i leader essere un punto di riferimento per il mercato della digital transformation nel mercato assicurativo quali sono i nostri le nostre caratteristiche oggi vedremo tre aspetti che riteniamo importanti per il nostro settore il settore assicurativo che sono sicuramente i cambiamenti i processi aziendali e l'integrazione parliamo di cambiamenti perché il settore assicurativo ha avuto un'evoluzione importantissima se pensiamo all'IoT quindi l'Internet of Things quanti device sono collegati a noi e quante informazioni riceviamo e possono essere utilizzate dalle compagnie sicurezza così come le auto ad esempio dalle auto alla guida autonoma comunque tutti i servizi digitali che mettono a disposizione che possono essere utilizzati dalle aziende per migliorare i servizi servizi digitali in continua richiesta da parte di tutti gli utenti noi sappiamo che in questo periodo è stato difficilissimo quanto il digitale ci ha aiutato ci ha permesso di rimanere in contatto ma anche le nostre esperienze sono cresciute le nostre esigenze di digitale di servizi digitali è cresciuta la customer experience è cresciuta questo vuol dire rispondere alle esigenze di questo cambiamento per fare un cambiamento il secondo pillar che oggi vedremo è il processo aziendale processo aziendale vuol dire cambiare qualcosa all'interno della nostra struttura della nostra dinamica sia come singolo dipartimento il customer care il sales ma anche tutto il resto dell'azienda per mettersi in relazione e far sì che tutte le informazioni possano girare meglio all'interno dell'azienda ed essere un servizio per il nostro cliente questa digital transformation ma quali sono le chiavi di successo della digital transformation una volta si diceva che bisognava fare il sito adesso digital transformation e il successo della trasformazione digitale è l'unione di tanti punti che è il sito che è il mobile perché viviamo con i nostri telefoni cellulari e con le app con il social network e per esempio le chat per avere relazione subito con l'azienda tutti questi punti di contatto creano un processo aziendale migliore e un successo ma noi abbiamo visto che l'esperienza che abbiamo con i nostri partner e i nostri clienti che un fattore importantissimo per il successo di un progetto è l'integrazione dei dati senza l'integrazione dei dati è impossibile arrivare a soddisfare le esigenze dei clienti il data driven liferay come open source propone soluzioni che riescono a darvi la possibilità di integrarvi col vostro back end con i vostri sistemi interni per dare quelle informazioni che adesso sono un valore solo interno anche all'esterno per dare un messaggio un servizio personalizzato ma l'integrazione anche con sistemi interni e anche con sistemi di intelligenza artificiale o di machine learning parole che continuiamo a sentire che stanno arrivando e che ci aiutano a proporre un servizio sempre personalizzato è quello che molti definiscono la nuova era questo arriva con l'unione tra cambiamento processi aziendali e integrazione ma come si mette a terra nelle soluzioni questi tre pillar teorici noi vediamo e abbiamo visto che ci sono diverse soluzioni oggi ne vediamo alcune per esempio il portale clienti ser service creare esperienze personalizzate connesse e omnicanali perché abbiamo visto prima il sito mobile social sono tutti i punti di contatto importanti per l'azienda che deve riconoscere registrarli per dare l'informazione giusta per fare un rinnovo di una polizza per avere nuovi servizi da proporre al cliente per far sì che il cliente sia felice di stare all'interno della nostra applicazione. Ma il mondo assicurativo è fatto sì di clienti, ma sappiamo quanto è importante il canale. Quindi il portale agenti, i broker, tutto quel sales network che sta intorno alla compagnia assicurativa che dà sicuramente un vantaggio e un servizio fondamentale. Ma noi come azienda dobbiamo dare a loro gli strumenti per arrivare in maniera puntuale a un'offerta, a un servizio personalizzato, quindi aumentare quelle che si definiscono le performance time to market. Quindi rispondere in maniera veloce perché noi azienda abbiamo dato le informazioni giuste alla gente, al broker, al nostro sales network. Altro aspetto molto importante, e ci siamo scontrati, o abbiamo per fortuna avuto la possibilità di scontrarci, col digital workplace. In un periodo difficile, che ci ha visto lavorare a distanza, e quindi collaborare in maniera diversa, non più nello stesso ufficio, ma in ambienti digitali. Lavorare in un ambiente digitale, o avere un workplace, vuol dire condividere documenti, esperienze, per far sì di avere sempre l'informazione giusta, corretta, da dare al nostro cliente, che sia cliente esterno o cliente esterno, noi dobbiamo poter essere sempre presenti con la giusta informazione. E tutti questi aspetti, questi tre aspetti che abbiamo visto, il portale per il consumer, per il cliente, il portale agente e il workplace digitale, sono fondamentali e funzioneranno se ci sarà la piattaforma di integrazione. Quei sistemi legacy, quindi quello che ho all'interno della mia azienda, tutte le informazioni che derivano dai nostri clienti, quello che fanno, e quindi riuscire a eliminare quei processi cartacei e vincolanti in alcune operazioni, renderli performanti, veloci e anche facilmente controllabili, centralizzare l'informazione per condividerla al meglio. Fino ad adesso abbiamo parlato come l'Iferi vede il mercato Insulance, come lo aiuta, quali sono alcuni degli aspetti che noi proponiamo nelle nostre soluzioni. Ma vediamo in pratica come un cliente, il nostro cliente, il nostro ultimo caso di successo, nel cui siamo molto orgogliosi, ha applicato queste caratteristiche della nostra soluzione a un suo bisogno, a una sua necessità di digitalizzazione. E parliamo di HDI Assicurazione, leader nel mercato assicurativo nazionale, con oltre 1,7 miliardi di fatturato, che ha dato vita a un nuovo processo per il Customer Portal Consumer. Questa è la frase del dottor Fini, Chief Information Officer di HDI Assicurazione, e credo che sia una delle frasi migliori che porto in molti casi ad esempio, perché sintetizza al meglio l'obiettivo di un progetto di digital transformation nel mondo Insulance. I clienti hanno ora a disposizione un canale di comunicazione sempre aperto con l'azienda per monitorare la loro posizione, disporre operazioni in modalità self-service e richiedere supporto in modo immediato. I contenuti sono personalizzati, l'interazione è diventata molto più fluida e intensa. Ecco, gli obiettivi sicuramente importanti, ma è quelli comuni a molti di noi in questo settore e anche in altri. Ma quali sono state le sfide che HDI ha lanciato in questo progetto? Sicuramente a rinnovare il Customer Portal Consumer. Quindi la parte più complicata del cliente finale, perché il cliente finale conosce il mondo digitale e si aspetta dei servizi ad altissimo valore aggiunto. Digitalizzare il Customer Journey. Sapere qual è il viaggio del nostro cliente per migliorare il suo viaggio, la sua esperienza all'interno delle nostre applicazioni, all'interno del nostro logo. Incrementare l'utilizzo di strumenti digitali. Più strumenti digitali si utilizzano e più avremo informazioni e più riusciremo a stare vicino e personalizzati nel messaggio al nostro cliente. Il quarto, servizio riutilizzabile. Importantissimo, scalabile si potrebbe dire. Comunque utilizzare, pensare dei servizi e poterli allargare ad altri processi aziendali. All'inizio avevamo detto quant'è importante il processo aziendale. Il singolo, nell'ambiente consumer, sales, può diventare utile per accelerare la trasformazione digitale di altri processi aziendali. Quali sono i risultati che ha raggiunto HD e assicurazioni? Risultati importanti. Comunicazione costante e continua. Perché questo è quello che i clienti vogliono e l'azienda. Non avere più un orario dove poter ricevere una risposta o poter avere un'interazione. Ce l'ho bisogno adesso? Io ho la mia risposta adesso. Questa è comunicazione costante e continua. Digitalizzazione delle operazioni. Questo permette di incrementare le registrazioni in maniera semplice, che non richiede un aumento della forza lavoro. Perché i processi sono digitalizzati, possiamo avere più registrazioni e più attività all'interno dell'area clienti, senza avere un tappo, un limite. Perché il digitale abbatte questi limiti. Un customer journey è il giudizio. Quindi la possibilità per i clienti di operare in autonomia e in tempo reale. Autonomia e tempo reale sono due elementi fortissimi. Siamo abituati ad avere questa necessità e la ricerchiamo nelle nostre aziende. Questo è il customer journey, è sapere che questo viaggio lo possono fare da soli, con tempi migliori e dipendenti solo dalla propria volontà. Supporto clienti. Uno dei processi aziendali. Ma uno dei processi aziendali che cresce grazie all'utilizzo del digitale e dell'integrazione. Perché se un cliente mi fa una domanda e io ho tante informazioni derivanti dall'integrazione, so già qual è il suo portafoglio, qual è il suo tipo di richiesta, e posso indirizzare la risposta. Non ho bisogno di domande, continui, scambio per arrivare a esattamente, è lui il cliente, cosa vuole. No, l'interazione delle applicazioni digitali permette di guadagnare tempo e se si guadagna tempo sul customer care, sul supporto clienti, è un servizio di sicuro grande impatto nella decisione del brand da affidare ai propri servizi. Con questo ho concluso. Vi lascio con la frase che riteniamo in Liferay molto importante ed è un po' il nostro riferimento, cioè rafforzare, aiutare le compagnie, le aziende, a dare sempre un miglior servizio, valore ai propri clienti. Le nostre soluzioni vi permettono di creare valore da dare ai vostri clienti, che siano interni o che siano esterni. Io ho concluso, ringrazio per l'ospitalità e le fonti. Lascio la parola ai miei colleghi che continueranno la tavola rotonda all'interno dell'argomento Agile Insurans. Grazie a tutti. Grazie a tutti.